di cui potrà un uomo se distruire solo contando a tui trascendentare potrà l'uomo dimortare e da loro non va a fare nate con patete e due nate ma con etere il creato che l'eterno ci ha donato noi la pace auguriamo e il mondo ringraziamo che ha saputo oggi ascoltare e che i cuori danno ascoltare di fronte al creato ci inginocchiamo e la salvezza per tutti imploriamo e infine in cerci dirà buona maschera e vivania grazie 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 ho dimenticato di presentare il don da nostra mascotte Valter Maggio che insomma ha già fatto da solista scusate ho dimenticato di fare grazie 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 grazie